Re-Education Alcane presenta le poesie di Manuela Arcula. Buonasera! Prima poesia, la stella della legna. Spade lucenti, calandri al giaroppo. Carri stridenti, qua e là qualche schioppo. Lungo la tenna ci ormai si è comodate. Gli re tendenna, ma la gente batte, ci batte. Tun, tun, colpi di qua. Tun, 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 tun. Curpi di là. Cosa accadrà? Cosa accadrà? Così. Maa cosa accadrà? Grazie a tutti.